Il matrimonio è la cosa più bella che Dio ha creato. La Bibbia ci dice che Dio ha creato uomo e donna li ha creati a sua immagine. Cioè, l'uomo e la donna, che si fanno una sola carne, sono l'immagine di Dio. Ha menzionato un grande nemico oggi del matrimonio, la teoria del gender. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono... ma non si distrugge con le armi, si distrugge con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. Pertanto difendersi delle colonizzazioni ideologiche...